In un mondo di leggende e cavalieri, due innamorati lottano contro una maledizione che trasforma lei in un falco di giorno e lui in un lupo la notte. Sempre insieme, eternamente divisi. Finché ci saranno il giorno e la notte. Rutger Auer, Michelle Pfeiffer, Lady Oak. Giovedì alle 21, sul 20.